Nella serata di ieri un'autovettura ha perso il controllo andandosi a scontrare contro il guardrail posto al lato della strada. Il sinistro è accaduto in stradone Roncoleva nel comune di Trevenzuolo in provincia di Verona. La barriera di protezione ha infilzato il mezzo entrando dal parabrezza e uscendo dal vano posteriore dopo aver divelto il portellone. La conducente ferita in maniera non grave è stata soccorsa dai sanitari e dai vigili del fuoco che, giunti da Verona con due mezzi e sei operatori, hanno lavorato usando divaricatori e cesoi idrauliche per liberare le gambe della donna che risultavano incastrate dalle lamiere. Una volta liberati gli arti, i sanitari supportati dai pompieri hanno potuto estrarre la donna per poi trasferirla presso l'ospedale di Borgo Trento. Successivamente i vigili del fuoco hanno provveduto a tagliare con moto troncatore i due monconi della barriera per liberare la vettura oltre a mettere in sicurezza l'intera area. Sul posto anche i carabinieri di Villa Franca per le indagini sulla dinamica del sinistro. L'intervento, che durante tutte le sue operazioni ha visto la chiusura totale del tratto di strada, si è concluso dopo circa due ore.